Grazie Presidente, intanto come premessa vorrei contestare il suo atteggiamento Presidente perché ieri sera la maggioranza su un emendamento si è sospesa per un'ora e venti minuti, forse anche di più un'ora e zero tre, esatto, mentre questa sera dopo venti minuti lei ha ritenuto opportuno di venire in minoranza e minacciare il fatto che sarebbe stato il caso di rientrare perché siccome abbiamo detto che c'è il timore attraverso noi dobbiamo rientrare, quando la maggioranza invece ha i suoi problemi interni e deve valutare gli emendamenti e cercare di trovare una quadra, tutto è consentito in questo Consiglio Comunale, in questa amministrazione, comunque siccome le ho prospettato all'interno della nuova maggioranza l'esigenza di presentare l'ordine del giorno, lei come sempre accade per la sua smania di velocizzare i tempi, ritiene invece che questa possibilità non sia dovuta perché non so per quale motivo ritiene che è stato preso un accordo, poi mi farà sapere eventualmente attraverso la parola del Segretario quando e con chi ha preso l'accordo per cui non è più possibile presentare l'ordine del giorno questa sera, a questo l'ha detto all'inizio ma non l'ha concordato con nessuno, queste cose si concordano con i capigruppo, non decide il Presidente venendo qui la sera quello che bisogna fare in quest'Aula, per cui io credo che sia assolutamente opportuno fare una riunione dei capigruppi per dirimere questa questione. Raccolgo subito l'invito alla riunione di capigruppo che si deve occupare anche di quanto contenuto la lettera di convocazione, ovvero sia il prolungamento di sessione. Relativamente all'argomento abbiamo detto nella capigruppo di ieri sera, quella riunione è fatta durante una sospensiva e avremmo posto dei termini per la presentazione di ulteriori atti che emendavano e integravano la delitera. Questa sera alle 8 e mezza abbiamo detto che davamo tempo fino alle 9 e meno 10, nessuno ne consiglia ha fatto obiezioni, pertanto è regola accettata. Allora, prego i capigruppo di rendersi disponibili per la riunione organizzativa della saletta di maggioranza.